Nasce a Palermo il 2 febbraio 1939 e a 17 anni frequenta la scuola di teatro organizzata dal piccolo teatro della città di Palermo e qualche mese dopo viene scelto da Vincenzo Thieri, padre di Aroldo Thieri, per interpretare un piccolo ruolo nei mariti di Norella. Nel 1957 si trasferisce a Roma, dove viene scritturato da Aroldo Thieri e Giuliana Loiodice per la reggia di Mario Ferrero e Grazie. Ha un discreto successo personale e comincia a lavorare con numerose compagnie teatrali. Dal 1967 al 1969 lavora come speaker alla BBC di Londra. E quando ritorna in Italia inizia una lunga carriera tra cinema, televisione ma soprattutto teatro dove lavora in ruoli da caratterista con attori come Enrico, Maria Salerno, Giancarlo Sbragia, Gianni Agus, Gianni Bonagura, Gino Bramieri, Lilla Brignone, Gastone Moschin, Ugo Tognazzi, per citarne solo alcuni, è stato diretto da Pietro Garinei, Mario Missiroli, Giancarlo Sepe e altri ancora. Al cinema è stato diretto da Vittorio De Sica, Luigi Comencini, Nanni Loi, Luciano Salce, Edoard Molinaro, Alain Restne e tanti altri ed affianca attori come Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Giancarlo Giannini, Jean-Paul Belmondo, Alberto Sordi, Nino Manfredi e Ticci. Negli anni settanta comincia a lavorare anche come doppiatore e nel 1980 entra a far parte della società di doppiaggio SAS di cui in seguito sarà prima consigliere e poi vicepresidente nel 2001.